Sì, è funzionata per tutti voi, quindi devo abituarli. Vai Asia! No, no, no! Giri, piatti, giri, giri, giri! No, no! No! E' bella! No, no, no! Via via via! Up! Lui! Lui! Entra! Entra! Via via via! Lui! Vai via via! Lui! Sì! Giri! Via via via! Via via via! Buongiorno! Grazie a tutti.